Sarà capitato anche a te di pensare, ma perché quel troglodita ha successo e io no? Io sono più intelligente, più furbo, più bello, eppure lui ha successo e io no. Com'è possibile? Ultimamente qualsiasi cosa io faccia non riesco a valorizzarla, perché sento di poter fare di meglio. Riesco sempre a trovare il pelo nell'uovo. È quasi impossibile che io sia pienamente soddisfatto di quello che ho fatto. E come spesso accade quando mi fermo a pensare, mi ricollego alla musica. Guardo certi progetti e mi accorgo che sono oggettivamente perfetti. E non è importante chi ha fatto il progetto, perché chiunque l'avesse fatto avrebbe fatto successo. Che l'artista si chiami Sfera, Montemagno o Paolino, poco importa. Quel che conta è che il progetto è fatto oggettivamente bene. Ed è proprio quel oggettivamente che bisogna puntare. Quando oggettivamente le cose sono fatte bene, è questione di tempo prima che arrivino i risultati. Poi è ovvio che c'è chi ha fatto successo anche se non è oggettivamente bravo. Ma noi non possiamo lavorare sulle cose soggettive. Sicuramente piacerai a qualcuno e sicuramente farai schifo a qualcun altro. L'unica cosa certa è che non puoi piacere a tutti. Al contrario però, l'oggettivamente, scusatemi il termine, è al 100% nelle nostre mani. Ernia infatti dice, l'unico che avrebbe avuto successo anche a fare altro. E non è una frase a caso. Una persona di successo probabilmente lo sarebbe anche in altri campi. La determinazione, la voglia e l'intelligenza che ci mette Cristiano Ronaldo a fare quello che fa, se lo usasse per fare qualsiasi altro lavoro al mondo, sicuramente farebbe successo anche in quello. La qualità del lavoro che poi va a sfociare nella cura del dettaglio, lo portano al successo. Io ho lavorato in vari settori, totalmente diversi l'uno dall'altro. E mi sono accorto che, a meno che non si tratti di un monopolio, quando c'è della concorrenza, la differenza rispetto alla concorrenza la fa il dettaglio. Questa cura maniacale del dettaglio permette alle persone di successo di elevarsi, di distaccarsi rispetto alle persone normali. Se sei a dieta, lo sei, fino a che non c'è scritto pasto, sgarro. Altrimenti tu lo sgarro non lo fai. La feta di pizza, il cucchiaio di zucchero, il bicchiere di latte, sono quel dettaglio che distingue le persone normali dalle persone di successo. Qualcuno di voi sicuramente avrà pensato a Luis fa quello che gli pare ed ha successo. Com'è possibile? Il punto è che Luis ha successo perché sa quello che fa e ha successo perché fa credere agli altri di non sapere quello che fa, quando in realtà lui sa benissimo quello che fa. Luis non è stupido, è molto intelligente e qualsiasi cosa faccia nei video è stata studiata nel dettaglio. O comunque se si parla di una reazione di qualcun altro all'interno del video è stata studiata affinché possa avvenire. Alla fine nel 2022 siamo accecati dall'apparenza. Tutte le persone che vedete su Instagram che fanno i fenomeni in realtà non lo sono. Cercano di vendervi un lifestyle che vorrebbero avere ma che in realtà non hanno. O comunque fanno finta di avere. Invece quelli che non ostentano, che hanno un profilo basso, in realtà sono quelli che hanno i veri risultati, sono loro che hanno davvero successo. Tralasciando i fenomeni da baraccone rifletteteci su questa cosa. Tutte le persone che hanno avuto o che hanno successo hanno creato un prodotto, un servizio, un qualcosa oggettivamente perfetto, oggettivamente che funziona e allo stesso tempo hanno una cura maniacale del dettaglio. Quindi basta scuse, se fate qualcosa che funziona, che merita, farete successo. Potete chiamarvi anche Jonathan Boschetti. Farete successo. Perché mi sono rotto di sentire, lui ha fatto successo solo perché è figlio di, lui ha fatto successo solo perché è fortunato, lui questo e lui quell'altro. Tu sei dove sei a causa delle scelte che hai fatto in passato. E lui è dov'è a causa delle scelte che ha fatto in passato. Semplice no? Sei dove meriti di stare. Quando meriterai di stare più in alto, magicamente ti troverai più in alto. Ma tanto alla fine in Italia, se non spacchi, è sempre colpa degli altri. Detto ciò ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un bel mi piace e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Grazie a tutti